Festeggiamenti tradizionali per Santa Barbara Sì, quest'anno festeggiamo nuovamente Santa Barbara con molta gioia anche perché abbiamo raggiunto il 90% delle nostre aspettative quest'anno abbiamo inaugurato la PS che è alle mie spalle grazie al contributo di tante persone, di tanti colleghi delle amministrazioni, di molte aziende che ci hanno dato una mano perché con le nostre possibilità non ce l'avremmo fatta quest'anno abbiamo anche 4 nuove unità che hanno superato brillantemente il corso di formazione e quindi sono già operative al 100%, abbiamo due vigili che passeranno di grado a grado di caposquadra presumibilmente nel 2019 dopo il corso di formazione e quindi possiamo dire che quest'anno è stato molto bello da diversi punti di vista quel 10% che manca ancora è praticamente l'attesa della caserma che è comunque finita, i lavori sono finiti, c'è solo più la parte burocratica però quella non dipende da noi ma dipende dall'amministrazione comunale e poi dopo dal comando di Torino per l'accettazione e tutto comunque diciamo che quest'anno è andata bene, abbiamo fatto circa 200 interventi purtroppo gran parte di soccorso, abbiamo portato aiuto per incidenti stradali incendi di abitazione che sono quelli più gravi, quelli che praticamente fermano la vita di una famiglia però comunque il nostro impegno ce l'abbiamo messo e sicuramente lo metteremo a disposizione anche per il futuro il distaccamento è formato da 23 unità, tutte operative, tutte collaborative in particolare devo ringraziare i miei più stretti collaboratori che sono il vice capo di staccamento Jacopo, il responsabile delle patenti Walter e tutti quelli che strettamente collaborano in mia assenza e che tiriamo avanti tutti assieme il distaccamento è di tutti e per tutti e in più quest'anno siamo anche lieti di dare la croce di anzianità al nostro vigile della Reina Andrea, futuro capo squadra e di 15 anni di continuato servizio e bene merito servizio nel nostro distaccamento La nuova caserma dei Vigili del Fuoco volontari di Castellamonte è praticamente terminata? Sì, praticamente siamo al 90% dei lavori quindi tra breve diciamo sicuramente nell'anno nuovo finalmente vedremo la realizzazione della caserma definitivamente e appunto per questo volevo ringraziare la ditta Bracco che ci ha dato una mano la vecchia amministrazione del sindaco Mascherone e del vice sindaco Maddio la nuova amministrazione che si è mossa veramente tanto nei nostri confronti il sindaco Pasquale Mazza, il vice sindaco Teodoro Medaglia e anche tutta l'amministrazione che ci sono stati vicini per questo completamento della caserma appunto è stata davvero molto sospirata Eh sì, è stata veramente tanto sospirata sono 25 anni che attendiamo questa caserma e quindi finalmente sarà una ricompensa, un riconoscimento per tutti quanti per noi che ci siamo ancora e anche per i veterani che hanno sempre voluto questa caserma e quindi Grazie a tutti.